Un lastrigiano nell'Olimpo del calcio, la maglia di Fulvio Nesti, due scudetti con l'Inter negli anni 50 che gli consentirono di vestire i colori della nazionale, entra a far parte del patrimonio del Museo del Calcio di Coverciano, nell'esposizione permanente dei tesori che raccontano la storia degli azzurri. La cerimonia di consegna da parte della famiglia si è tenuta lo scorso 11 maggio nella sede del comune. È stato il nipote del giocatore Alessio Nesti a consegnare a Fino Fini e Maurizio Francini, presidente e direttore della Fondazione Museo del Calcio, la maglia numero 6 vestita dal mediano. A ricordare Nesti c'era anche un amico e compagno di squadra, registo Pandolfini, che ha vestito la maglia viola e come Nesti ha anche i colori nero-azzurri e quelli della nazionale italiana. Per uno sportivo la nazionale vuol dire tutto e io ho avuto la fortuna di fare due campionati del mondo e due olimpiadi, di più non potevo fare. Oggi celebriamo anche Fulvio Nesti, anche lui l'Astrigiano, che ricordi ha di Fulvio Nesti? Fulvio Nesti se era bravo come lo è stato fisicamente doveva giocare, prima lui in nazionale di me, perché era più bravo di me per rendere conto agli avversari. Eravamo molti amici, comunque si è elevato delle belle soddisfazioni anche lui, perché quando si tocca la Serie A e poi si gioca in nazionale vuol dire fare il massimo. La Strassigna celebra dunque uno dei suoi sportivi più famosi, ricordandone anche i valori fuori dal campo, quelli di un calcio che non c'è più, dove contavano i piedi, ma soprattutto la testa. A noi tra l'altro all'inizio della legislatura abbiamo dedicato la piazza, quella antistante, il campo più importante che c'è qui sul capoluogo a Fulvio Nesti, quindi è un ricelebrare doppiamente il valore di questo grande giocatore. La cerimonia a omaggio a Fulvio Nesti è stata anche l'occasione per dare il via alla tre giorni dedicata a storie di sport, 50 maglie in mostra della gloriosa Fiorentina del passate di oggi. Un'esposizione che si è tenuta al circolo Acli Lulive che ha consentito di ripercorrere una parte di storia viola attraverso anche i ricordi di lastrigiani, da articoli di giornale fino a bandiere e biglietti delle gare più importanti. È un evento che casualmente capita anche con la vittoria, l'ultimo scudetto della Fiorentina nel 68-69. Noi abbiamo voluto riaffermare con questa mostra il valore della maglia e il valore della bandiera in tutta l'area metropolitana. Lo facciamo qui alla Strasigna perché organizza il circolo Acli Lulivo, ma sostanzialmente è rivolto a tutti i fiorentini che amano questa società, che amano colori viola ed era giusto ripercorrere un po' le tappe della Fiorentina. In questa nostra escursus temporale che va appunto dagli anni di Baggio, perché qui abbiamo la maglia di Baggio, agli ultimi rappresentativi giocatori importanti come Gonzalo Rodriguez, abbiamo voluto mettere in mostra elementi, maglie che danno una vera sintesi della passione. Importante è anche appunto, come è stato detto, la maglia di Astori che è campione compianto che rimarrà nel nostro circolo a dimostruminanza della passione vera appunto per il calcio, ma per i calciatori che danno tutto per lo sport.